buongiorno allora oggi un minuto fa mi è arrivato il pacco di brochet il mio primo no il mio secondo pacco ho fatto un ordine da 60 euro e ora vi faccio vedere i prodotti che ho preso però due prodotti non sono mia e adesso su tutto il mio allora una signora ma preso questo fondotinta in colorazione beige 100 perché lei è chiara di pelle e quindi va bene questo questa collezione fondi protezione 30 e questo due radiazione poi me lo farò dire contro di due a lei wow flawless skin foundation questo qui zero the found sps 30 poi ve lo farò vedere poi mi sono presa per me questo gel dolce alla monoi che sono curiosa di provare dopo guardare sento anche la profumazione poi mi sono presa questa acqua profumata per colpa e per capelli questo non guarda i prezzi non me li ricordo dopo ve li dico scatto questo c'è pure il tappino qua poi vediamo cosa c'è qua invia il tuo terzo ordine al minimo di 150 entro un mese dal tuo secondo ordine e ti regalano questo profumo alla vaniglia crema a mani e basta vabbè queste sono cose mia non è che poi c'era la promozione ogni 15 euro che che facevate vi davano questo come si chiama una maschera mi pare di per capelli ricci e una maschera per capelli lisci ora questo non mi ricordo che queste capelli ricci queste poi ho preso c'è la promozione prendete due due bagno schiuma di questa collezione nuova edizione nuova di gel dolce a 5 euro ne potevate piani 2 e ogni gel dolce che pigliate e piantano un albero questi garantiscono 40 lavaggi con uno di questo come ho capito e niente queste io avevo preso una mango che dovrebbe essere questo e questo è una la vaniglia credo ora mi pare di sì poi vi farò sapere meglio me ne allora anche questo sempre per dicci ho voluto provare questo del dorante di vrush e sempre alte verde decine della cina che non ho mai provato i durante di vrush e quindi sarò curioso non farò sapere questa maschera per capelli trattamento del dia trattamento del giorno sia ogni giorno potete mettervi questa maschera nutriente sì per riattivare le micro circolazione del cuoio capelluto sì con l'avocado e poi vi farò una storia per bene su questa maschera qua su questo trattamento due buste per dare i prodotti che cosa c'è come hanno mandato le buste non so quante sono sono una decina in queste carte questa carta qua poi mi hanno mandato il catalogo e catalogo numero 8 e qui non lo so cosa c'è vediamo la cipria per quella signora aspettate la cipria i vrush e compatta questo sempre la sempre la stessa 0 default la stessa linea di fondotinta però non capisco anche questo dovrebbe essere bello scelto beige no questa è beige che la ed e niente è un altro busta niente ragazzi tutto il mio pacchetto il secondo ordine di bruce se c'è qualcuno che vuole vedere il catalogo mi scriva giù in privato e in direzione e niente vi farò vedere il catalogo ciao